Lei ha raccontato più volte di essere stato abusato ripetutamente all'età di circa 7 anni. Come è iniziata? Mia madre era andata fuori casa perché io sono rimasto praticamente solo perché mio padre lavorava con l'Edison, era un impiegato e stava costruendo gli aeroporti di Jeddariad e viveva a Beirut perché io ero un bambino grande perché prendevo gli aerei da solo della Middle Eastern Airlines, era il Comet, mi ricordo. Andavo a trovare mio padre e poi stavo in un collegio, per cui era terribile. Però insomma a volte mi chiedo se tutto quello che mi è successo nella vita, la mia infanzia è stata quella di un cane bastonato, non è stata la molla per fare tutto quello che ho fatto perché non ho, basta, è passato, è andato. Ho fatto una legge contro la pedofilia. Quando lei ha fatto questa legge contro la pedofilia, ho letto che sua madre le ha detto ho scoperto adesso che sei stato abusato per tre anni, non mi hai mai detto niente, allora ti piaceva. Sì, perché mia madre ha il senso del boom, detta così è tristissima, detta come la direbbe mia madre e dice beh non me l'hai mai detto, tre anni, vabbè se non dicevi nessuno, non ti piaceva, non rupe i coglioni. Questa era mia madre, che era spiritosissima però usava lo humor per salvare da, mia madre aveva perso una mano durante la guerra, un dito di una mano, un pollice per una donna, insomma abbastanza duro da sopportare perché ha sempre usato l'umorismo per andare oltre e a volte andava talmente oltre che anche quando sei andata di casa me l'ha detto così, mi ha detto senti io vado a vivere da un'altra città, mi separo, dico ah bene, dico ma è appena nata mia sorella? Sì sì, io vado via con lei e dico io, e che cazzo, andiamo tutti via in vacanza? e questa è stata l'ultima volta che ho parlato. Quanti anni aveva lei? Io sei anni e lei ne aveva 24, 25. E per quanti anni non l'ha più rivista? Tanti anni, parecchia, però l'ho sempre avuto bene, l'ho amata molto, l'amo ancora molto anche se non c'è più e l'ho mantenuta con i miei primi soldi, le mandavo mi ricordo 800 mila lire al mese perché poi combinava casini sempre, però era una donna coltissima e lei mi ha insegnato a vivere attraverso i libri perché non era capace a fare la mamma, allora mi mandava un libro ogni settimana, mi diceva leggi dai, non ho pericoglione, leggi e quando scappò mi diede l'incompreso e mi lasciò cent'anni di solitudine un'altra volta, era una sua maniera e io forse che ho letto, ho una biblioteca di quasi 35 mila libri, molti letti, molti primi 50 pagine perché poi sono un libro tra no e lo levi, però per me i libri sono proprio fisici, mi piace vederli qui e credo di continuare a leggere per cercare di capire mia madre. Mi sembra un'ottima risposta.